Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, finalmente full leoviting, allora siamo arrivati, giorno di ricarica media che applico martedì, venerdì e la domenica, sarà un video molto semplice e molto diretto per farvi vedere appunto quello che mangio, non mi dilungo troppo in chiacchiere per cui arriviamo a 5.000 like per il prossimo full leoviting, fatevi vedere se vi piace questa tipologia di video con appunto un commentario solo su quello che mangio, così appunto da farne degli altri magari più dettagliati. Allora, ho messo delle riprese di dettaglio, poi ovviamente ci saranno i riferimenti a MyFitnessPal che so che vi interessano, sia in merito alle calorie che mangio e consecutivamente ai macro, ma anche alle quantità degli alimenti in maniera molto più dettagliata. Comunque qui potete vedere la colazione fatta più o meno alle 7.40 che è anche il mio post workout, perché ormai sapete che mi alleno più o meno alle 6 e un quarto, 6 e mezza fino alle 8, per cui torno a casa, mi preparo un attimino e poi inizio a fare colazione. Qui potete vedere tutti gli alimenti che peso, che saranno appunto parte integrante del mio post workout e normalmente ci metto circa 10 minuti. Ecco qui, qui vedete appunto la panoramica con MyFitnessPal con 300 g di albume d'uovo, un'arancia da 200 g, 25 g di noci o comunque frutta secca, 50 g di fette biscottate bio di farro. E poi appunto potete vedere, qua uno zoom sulla paprika fumicata, veramente molto figo, e poi appunto 20 g di marmellata, io uso quella Rigoni perché non ha tanti zuccheri aggiunti, è molto buona, mi piace molto, per cui non male. Uso la cannella sopra appunto la marmellata, non mi dispiace affatto, anzi mi piace veramente molto, la colazione è il pasto in assoluto più abbondante, cioè quello che rende di più sia a livello diciamo di gusto, perché la varietà ovviamente di alimenti è altissima, anche integrando con frutta che non mangiavo da tanto tempo, ma che ho riscoperto e mi son pentito di aver trascurato per così tanto tempo, proprio perché è ricca di micronutrienti, mi fa sentire subito meglio, subito nel senso nel giro di 4, 5, 6 giorni da quando ho iniziato a reintegrarla. Qui ho messo una panoramica invece della mia integrazione mattutina, prendo due capsule di omega 3, una di vitamina C, una di tè verde, una di MyThermoExtreme e un'Alfaman. Il MyThermoExtreme per chi non lo sapesse, per chi se lo chiedesse, è un termogenico di MyProtein, trovate eventualmente il link in descrizione. Non fa miracoli però, aiuta, soprattutto per un po' di focus. Arriviamo allo spuntino che faccio circa due ore dopo, qui vedete le proteine in assoluto che prediligo che sono le The Whey al gusto crema di vaniglia, sono veramente buonissime, cioè queste ve le consiglio un po' come avevo fatto con quelle al cocco, perché sono veramente buone ragazzi, sono veramente molto buone per cui ve le consiglio. Quello che mangio qui quindi è un frutto, ovvero una mela, 150 grammi, 20 grammi di nocciole in questo caso, che compro sempre da Rosa Marina 88, mi piace molto la frutta secca che ha, ho riscoperto anche le noci di macadamia che sono veramente la morte, però mi piace variare la frutta secca e poi appunto uno scopo di proteine in uno shaker, circa mezzo litro d'acqua. Arriviamo al pranzo, pranzo molto semplice con 50 grammi di riso, 200 grammi di petto di pollo fatto alla griglia in questo caso e delle zucchine grigliate. Una cosa importante che vi avevo detto e poi non ho approfondito è il fatto che sto pesando la verdura in maniera più dettagliata. Sto evitando appunto di mangiare troppa verdura, cosa che mi consente magari di arrivare a un introito di fibre troppo alto, oltre 40 grammi. Ah, mi sono dimenticato 10 grammi di olio extravergine d'oliva, che è importantissimo, non dimenticatevi mai la paprika fumicata come faccio io. E appunto mi trovo molto meglio perché ho una grande leggerezza, data comunque dalla quantità di verdure ponderata che utilizzo, circa 200 grammi e 250 grammi, però comunque sia la sazietà c'è. Due ore dopo, poi arriviamo allo spuntino ancora una volta. Sto andando veloce ragazzi perché non voglio farvi perdere tempo, questo è un full di oviti molto sbrigativo proprio perché voglio solo mostrarvi come mangio, in che modo mangio e quanto mangio. Spuntino quindi alternativo, vi ricordo ormai che mi sono allenato, perché questi sono tutti spuntini post, fatto con 200 grammi di kiwi che ho riscoperto, mi piacciono da morire ma veramente tanto e sono ricchi di micronutrienti. Uno scoop ulteriore di proteine che si potrebbe tranquillamente alternare o con della fesa di tacchino, ma che non mi piace per nitriti nitrati o con del petto di pollo, comunque una fonte proteica nobile. E poi 10 grammi di appunto frutta secca, in questo caso ho usato le noci di macadamia. I kiwi li ho riscoperti, diciamo pure che le noci, mamma mia queste noci sono fenomenali ragazzi, se vi capita di fare un ordine al volo anche solo da rosa marina per prendere magari qualcosina, buttate dentro almeno 100 grammi di quelle perché sono la morte. Cena, ad onor del vero questo è il pranzo in realtà del giorno dopo, però la cena non l'ho registrata perché purtroppo sapete mia mamma si è operata questi giorni perché sono stato un po' indaffarato, però a prescindere da tutto la cena è stata uguale per cui è la stessa. L'ho registrata il giorno dopo ma vi assicuro che è la stessa nei giorni di ricarica media. In questo caso siccome ero appunto fuori porta potete vedere il meal prep che avevo preparato, ho fatto delle patate dolci, ho portato dietro del tonno, in particolare 3 scatolette da 55 grammi di tonno al naturale che scolo e che lavo, questo preferisco sempre farlo proprio perché non mi piace l'acqua in cui vengono conservati, preferisco sempre dargli una sciacquata e poi 200 grammi di verdure, in questo caso ho scelto dei finocchi per cui abbiamo qui 200 grammi di patate americane in questo caso, cotte al vapore semplicemente, non le ripasso in padella come fanno tante persone, secondo me acquista un sacco di tutto però sinceramente non ho preferito evitare, scusate 150 grammi di patate, ho rivisto adesso MyFitnessPool, mi è scappato di testa, 150 grammi di verdura che io ho scritto creato in naturale però in realtà erano finocchi e 150 grammi di tonno, non solo perché sono appunto andato fuori casa, ho preparato questa schiscetta ma in realtà l'ho mangiato anche il giorno prima a casa, è praticamente lo stesso pranzo, mi raccomando non dimenticate mai l'olio, 10 grammi, oltre questo volevo dirvi anche che l'integrazione che prendo anche negli altri passi, non ve l'ho detto, sono appunto 2 grammi o meglio 2 capsule di Omega 3 a ogni pasto per cui l'avete visto a colazione ma ne prendo anche 2 a pranzo e 2 a cena, qui appunto calorie macro di quelle che è la mia giornata di ricarica media, potete vedere 2200 calorie, 200 carbo, 70 grassi, 195 pro con 35 grammi di fibre per cui direi veramente veramente molto equilibrato, mi trovo molto bene vi spiegherò poi appunto nei prossimi video, giorni di ricarica alta e giorni di ricarica bassa per adesso spero vi sia piaciuto questo video, spero vi abbia intrattenuto e vi abbia interessato mi raccomando lasciate un like per il prossimo eventuale Fuglio Vittime, consigliatemi cosa voler fare, migliorare se volete magari un altro video e noi appunto ci vediamo in un prossimo video per la quarta volta l'ho detto però, vabbè, era scontato grazie 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 grazie